UAV alleato online Controlliamo alfa Affacciati 3, 2, 1 L'ho chiamata Il nemico prende eco Mamma mia Dobbiamo prendere il trato Ok C'è gente qua Parti All Jagger Mi servono le muniz Eh, non ce l'ho io Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Oh cazzo Balena No È morto pure lui Fatto Fatto uno dentro Fatto un altro Vai Me ne sto finendo Cazzo è E' nato una volta Aspetta una volta Bello Ho dovuto riavviare il gioco perchè Devo errore di connessione Siamo prendendo eco Vediamo un po' Ah c'è la balena qui Allora fammi vedere se riesco a Allora Allora Amici Ok Ok Ma inattesa di pazzo Donna che bella Stiamo prendendo bravo Il nemico prende delta Ora siamo in vantaggio Bella riavviare Delta perso La stazione di servizio Figa Siamo sull'obiettivo alfa L'attesa del party Dovrebbe fare entrare Ah è tipo come quella di Almazra La stazione Ah si Sì Donna che smirata però Ma che l'avevamo presa Dai di che tra poco ti dovrebbe fare entrare No Madonna ho salvato quello Il nemico cattura Charlie L'ho fatto prima Siamo sull'obiettivo alfa No Siamo sull'obiettivo Charlie Guarda quello dove è camperato UAV alleato in zona UAV alleato online UAV di disturbo è attivo UAV alleato in zona Quando fa entrare? Ma è possibile però Prendiamo alfa Non mi ha vista, non mi ha vista Prendendo delta UAV 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 Due balene si scontra UAV 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 UAUV Ma cazzo non l'ho vista la storia si riesco siamo sull'obiettivo charlie appena iniziata la storia si riesco 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 Grazie a tutti.